Il corpo dalla finestra fissa l'insegna luminosa che si ostina nella sua intermittenza, così dovrebbe attirare lo sguardo, essere più visibile, svolgere la funzione per la quale è stata costruita, ma è un richiamo fuori scala o frequenza, si rivolge verso l'alto e non a chi passa che potrebbe avvistarla ed entrare, è rivolto alle persone che stanno, non a quelle che senza nulla sapere di ciò che accade, semplicemente vanno.